Buongiorno a tutti e benvenuti a questo Ecotoolbox del gruppo di studio SIC Ecocardiografia. Sono il dottor Alessandro Malagoli, responsabile delle collab dell'ospedale civile di Baggiovara a Modena e insieme al dottor Kevin Serafini affronteremo la tematica della quantificazione dell'atrio sinistro dall'approccio transtoracico. Ci concentreremo in particolar modo sulla misura delle variabili geometriche e funzionali, analizzandone pro e contro. Lascio ora la parola al collega in modo da entrare nel vivo della discussione. Ringrazio il dottor Malagoli e partiamo quindi parlando di diametro anteroposteriore atreale. Premetto che non parlerò di un'altra dimensione lineare, ovvero l'area, in quanto nella pratica clinica non trova più spazio. Il diametro anteroposteriore, storicamente la forma di quantificazione atreale più antica, viene misurato in sezione parasternale a sé lungo in telesistore ventricolare o telediastore atreale, perpendicolarmente all'asse ortico e sullo stesso piano del bulbo ortico. Abbiamo due diverse modalità per la sua misurazione. Metodica M-MOD, riproducibile con alta risoluzione temporale ma con difficile orientamento spaziale, e metodica 2D. In questo caso viene calcolato tracciando la distanza da setto interatreale a parete libera atreale secondo la convenzione leading edge to leading edge, mantenendosi parallele alla valvola aortica e perpendicolari all'asse aortico. Facilita l'orientamento ecocardiografico ma frame rate più basso. Quest'ultima è la metodica suggerita per la misurazione del diametro anteroposteriore. In queste due immagini vediamo due esempi di diametro anteroposteriore atreale calcolato con metodica M-MOD e 2D. Possiamo notare come, in questo caso specifico, non vi sia grossa differenza tra le due misurazioni. I vantaggi della misurazione del diametro anteroposteriore sono sicuramente la facilità nella misurazione e il fatto che, nonostante sia stato superato dal calcolo del volume atreale nella pratica clinica, trova ancora applicazione laddove si vuole stimare il rischio di morte improvviso a 5 anni nel paziente affetto da cardiomiopatia ipertrofica tramite apposito score. Tra gli svantaggi va sottolineato come il diametro anteroposteriore assuma che l'atrio abbia una dilatazione simmetrica in tutte le direzioni, cosa non vera. Per tale motivo è una misura che sottostimerà costantemente le reali dimensioni atreali. Inoltre, se visto come il volume atreale, correlli maggiormente con gli outcome cardiovascolari rispetto al diametro anteroposteriore, che perde quindi, come già detto, importanza in ambito clinico. Quando parliamo di volume atreale, ci riferiamo solitamente al volume atreale telediastolico. Tale volume, che viene calcolato in corrispondenza della telesistole ventricolare, va misurato in biplano con approccio 4 camere e 2 camere, ma ci si può anche limitare ad una singola 4 camere qualora siano presenti i limiti tecnici e la misurazione in 2 camere. Ciò è reso possibile poiché si è visto come visione a differenza di soli 1-2 mm su metro quadro tra il volume atreale calcolato in singola sezione 4 camere e volume atreale calcolato in biplano. Al fine di ottenere un corretto campionamento, è necessario effettuare una sezione dedicata. Asse ventricolare atreale infatti giacciono su piani diversi. Misurare quindi il volume atreale in una sezione ventricolare porterà ad una sottostima del volume atreale. Per ottenere tale sezione, bisogna ottenere la finestra in cui la lunghezza atreale risulti essere massima lungo il vero asse dell'atrio. Prese queste precauzioni, il volume atreale viene calcolato effettuando un tracciamento che parte dalla inserzione di un lembo mitralico. Si prosegue seguendo il bordo atreale ed escludendo auricola e vene polmonari, fermandosi infine a livello dell'anello mitralico sul lato opposto, chiudendo il tracciamento con linea orizzontale. In caso di fibrillazione atreale si può fare una media tra diversi valori di volume atreale. In questa clip possiamo vedere come, aprendo l'atrio secondo il suo asse, si ottenga la sua vera ampiezza. In queste due immagini prese sullo stesso paziente possiamo notare la differenza tra i due volumi calcolati off axis e in sezione atreale dedicata. Notare come siano state escluse le polmonari nel tracciamento e la differenza significativa tra i due volumi. I volumi atreali sono dipendenti dal sesso del paziente, tuttavia andando a indicizzare il volume ottenuto per il BSA andiamo ad aggiustare il valore tenendo conto delle differenze sesso relate nella costituzione fisica. Per tale motivo possiamo osservare come i cutoff di volume atreale siano uguali per sesso maschile e femminile, con un volume indicizzato di 35 che rappresenta il valore dal quale iniziamo a parlare di atrodilattato e sopra 48 il valore da cui definiamo la dilattazione come severa. Tra i vantaggi del calcolo del volume atreale con metodica 2D sicuramente va considerato come sia il valore prognosticamente più significativo a nostra disposizione e che riesce a quantificare in modo più realistico la deformazione atreale in senso dilattativo rispetto alle misure lineari. Come contro va detto che dobbiamo sempre ricreare la sezione dedicata per l'atrio e che il calcolo in singola camera è inevitabilmente inaccurato rispetto ad un approccio biplano, il quale è dipendente da una buona finestra acustica. Se fino a questo punto abbiamo parlato di volumi atreali calcolati con metodica 2D, parliamo ora di metodica 3D. La metodica 3D è sicuramente in rampa di lancio nel mondo ecocardiografico ed è applicabile anche nel calcolo del volume atreale. Esistono diversi software del 3D sul mercato, bisogna quindi sviluppare una conoscenza specifica sul singolo software. Sicuramente la grossa novità è che tali software permettono una ricostruzione 3D atreale partendo da un'acquisizione in 4 camera apicale, velocizzando il processo di quantificazione atreale. Vediamo qui un esempio di calcolo 3D atreale. Possiamo notare come il software individui in automatico l'asse atreale e ricostruisca il modello 3D dell'atrio, fornendoci volume telediastolico e telisistolico atreale e fornendoci anche la frazione di eiezione su cui torneremo successivamente. Va specificato come i volumi atreali calcolati al 3D si avvicinino e correlino meglio con i volumi atreali calcolati in risonanza magnetica, l'attuale goal standard, quindi non ci deve sorprendere il trovare volumi maggiori rispetto alla metodica 2D. Come già detto, sicuramente la metodica 3D è promettente poiché permette di avere volumi maggiormente correlabili a quelli di risonanza magnetica, velocizzando inoltre il processo di misurazione. Tuttavia va specificato come la metodica sia limitata innanzitutto dalla necessità di avere il software installato sulla macchina e in secondo luogo dalla necessità di avere una finestra acustica idonea e dall'assenza di valori di normalità ben definiti per la metodica 3D. Per tale motivo non è ancora raccomandato l'utilizzo esclusivo di tale metodica. Parliamo ora di strena treale. Fortunatamente oggi tutti i vendor sono allineati sul modello di strena automatico, rendendo il processo piuttosto semplice. Basterà infatti acquisire una piccale 4 camere in sezione a trele dedicata ed avviare il software specifico. In questo video vediamo il risultato di un calcolo di strena treale, con il grafico rappresentante le tre fasi atreali di reservoir, condotto e contrazione. Per la funzione di reservoir, uno strena treale al di sotto del 18% è il cutoff per definire un'aumentata pressione di riempimento ventricolare, come dimostrato da dati di letteratura. Questa slide è a ricordare come si possono prendere due zeri diversi come riferimento per il calcolo dello strena treale, ovvero la telediastole ventricolare o l'inizio della contrazione treale. Tuttavia, per convenzione, si suggerisce di utilizzare la telediastole ventricolare come zero. Si è studiata l'applicazione dello strena treale in diversi setting clinici, ad esempio come marker precoce di cardiomiopatia treale, come strumento per predire l'insorgenza di fibrillazione treale e nell'ambito delle cardiomiopatie. Tuttavia, ad oggi, l'unico documento a recepire in modo forte l'applicazione di tale metodica è questo expert consensus da parte dell'European Association of Cardiovascular Imaging sull'approccio multi-imaging nel paziente affetto da insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata. Dimostrato come un valore di pulse al di sotto del 18% se associato ad aumentate pressioni di riempimento in ventricolo sinistro, viene suggerito di utilizzare il pulse come ulteriore valore per andare a meglio definire le cosiddette funzioni diastoliche indeterminate e quindi migliorando il nostro potere diagnostico. Lo strena treale ci permette di ottenere rapidamente informazioni aggiuntive sulla funzione atreale, soprattutto sulla capacità di reservoir e quindi di buffer. Ci fornisce inoltre, come visto, informazioni aggiuntive sulla funzione diastolica ventricolare. Ovviamente il limite primario è avere il software installato sulla macchina, inoltre è dipendente dalla qualità delle immagini a disposizione. Per ultimo, servono dati più corposi di letteratura per una sua sistematica applicazione in ambito clinico. Parliamo infine della frazione di eiezione atreale calcolata con metodica 3D, per la quale valgono tutte le riflessioni già citate per il calcolo dei volumi 3D. Il vantaggio della metodica 3D è la possibilità di avere una frazione di eiezione maggiormente realistica e correlabile a quella calcolata tramite risonanza magnetica, sulla quale vi sono evidenze di come una sua riduzione sia associata a prognosi peggiore nei pazienti affetti da HFPEF. Possiamo qui osservare il rendering 3D e il calcolo della frazione di eiezione atreale insieme ad altri valori. La metodica 3D permette di avere una FA3A maggiormente correlabile a quella di risonanza magnetica, velocizzando il processo di misurazione e rappresentando un dato promettente per le future applicazioni cliniche. Tuttavia la metodica, come già detto, è limitata sicuramente dalla necessità di avere il software installato sulla macchina e in secondo luogo dalla necessità di avere una finestra acustica addonia. Inoltre sono necessarie maggiori evidenze sui valori di riferimento e sull'utilità clinica del dato. Vi ringrazio per l'attenzione.